Oggi sono qua per chiedere ai comuni che cosa posso fare nelle ultime settimane che mi restano affinché il Gargano possa accogliere la prossima stagione turistica al meglio perché il Gargano sta tirando molto, il Salento e il Gargano sono i due posti d'Italia che tirano di più dal punto di vista turistico e credo che il completamento della pulizia delle spiagge sia la cosa più sentita. Allora noi non abbiamo la competenza come regione della pulizia delle spiagge, tuttavia è una situazione molto particolare, penso che chiederò a tutti gli uffici, a tutti gli assessorati che questa competenza ce la prendiamo. Siamo al punto che la maggior parte dei canali, quelli che poi erano stati i principali indiziati dell'alluvione o per meglio dire della portata dell'acqua verso il mare e che quindi hanno poi costituito l'elemento attraverso il quale si sono creati i maggiori danni, sono per la maggior parte stati ripuliti, non nella totalità perché purtroppo le risorse necessarie sono enormi e dovrebbero essere enormi e le esigenze di pulizia non si fermano alla straordinaria amministrazione e quindi dovrebbero essere poi programmate con continuità. Però quello è un segnale, un primo punto di garanzia. Abbiamo già pianificato la messa in sicurezza strutturale di alcuni dei canali più importanti come quello Ulse qui a Peschici, stiamo aspettando l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per utilizzare i due milioni interessati, inizieremo dalla parte a mare, quindi dal tronco spezzato che è quasi sulla spiaggia. Stiamo facendo una ricognizione ulteriore delle risorse a valere sulla ruralità, la viabilità rurale per consentire anche l'accesso ai campi perché poi il danno alle persone è stato immenso, il danno materiale è stato rilevante, c'è un danno anche economico legato alle attività produttive che quindi va affrontato, si stavano indirizzando una parte di risorse per ripristinare la viabilità verso le campagne, verso i terreni che sono una grande ricchezza oltre al turismo di questo territorio. Tante cose da fare, oggi probabilmente faremo un approfondimento sulla questione pulizia delle spiagge dove esistono ancora tantissimi detriti e bisogna capire anche quali sono i livelli di autorizzazione per poterli rimuovere, cioè tante cose che messi assieme credo ripeto danno il segno di un'attenzione interdisciplinare che la regione sta dando a un territorio bellissimo come quello del Gargano, lo dico io da assessore della provincia di Foggia ma la presenza di Guglielmo Minervini, ovviamente quella del Presidente, testimoniano che questo è un posto importante per tutta la Puglia. Lanciamo un messaggio con il quale vogliamo dire che il governo regionale è ancora accanto al Gargano, anzi oggi più che un anno fa proprio perché il Gargano in questa fase va accompagnato nell'approssimarsi della nuova stagione estiva a recuperare la piena funzionalità delle sue strutture, della vita sociale, della rete viaria, delle sue infrastrutture e poi anche un aggiornamento sulle risorse che sono state stanziate, sullo stato di avanzamento della loro erogazione e ci poniamo anche in un atteggiamento d'ascolto per capire quali ulteriori bisogni restano irrisolti sul territorio. La cosa che posso dire, vi anticipate, è che sul Gargano c'è stata una concentrazione straordinaria di energie, non solo finanziarie ma anche in termini di attività e quindi siamo di fronte da quando mi occupo di protezione civile alla realtà che è stata aggredita con gli interventi con maggiore tempestività. Quindi stiamo dimostrando che il Gargano può diventare anche un laboratorio di efficienza nell'uso di queste risorse e nel ripristinare le condizioni per una piena funzionalità della vita civile.